Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, oggi vi parlo dell'operatore di telefonia mobile che ho avuto per più tempo, e con più tempo intendo una quantità ABNORME di tempo, perché sto parlando dell'operatore che ho ottenuto per quasi vent'anni, un operatore di telefonia GSM che è arrivato nel mercato italiano intorno al 1995, e di cui io sottoscrissi la prima scheda ricaricabile all'inizio del 1997, e il primo abbonamento con bolletta il 24 aprile 1998. Abbonamento con bolletta che ho ottenuto sino a luglio 2017, quando ho nauseato dal comportamento, cosa di cui parlerò in questo vlog, alla fine ho fatto portatilità verso un altro operatore. Sto parlando del primo operatore GSM italiano alternativo a Telecom, ossia di Omnitel Pronto Italia, che per i più giovani è successivamente diventato Vodafone. Cominciamo, sigla! Nell'ottobre del 1996 nasce, in Italia, la prima grande innovazione nel mercato della telefonia GSM, la Team Card, la prima SIM telefonica ricaricabile. Un'idea geniale, talmente geniale che Omnitel segue poco dopo, intorno a dicembre 1996, con la carta ricaricabile anche loro. Una carta ricaricabile che mi ricordo era pubblicizzata sui cartelloni pubblicitari da Gerry Scotti con in mano una pompa di benzina, per dare l'idea che fosse possibile versare il credito dentro la SIM, un po' come se si facesse benzina alla macchina. Sottoscritti la mia prima carta ricaricabile con Omnitel intorno al 1997, verso febbraio-marzo del 1997. Sino a quel momento aveva avuto il telefonino TAX con l'abbonamento, ma c'erano dei costi piuttosto elevati dell'abbonamento e, sebbene all'epoca, nel 1997, il traffico telefonico con il telefonino GSM avesse ancora dei costi proibitivi fino alle 22, praticamente le chiamate costavano 1.900 lire al minuto, nonostante tutto comunque a conti fatti e usando un pochino di parsimonia sarebbe stato possibile avere un costo telefonico decisamente più basso di quello del TAX. Non esisteva la portatilità all'epoca, per cui quello che feci fu semplicemente chiudere il mio contratto TAX e attivare la SIM ricaricabile con Omnitel. Lo feci anche per il concetto psicologico di poter uscire dal predominio di Telecom e passare, appunto, a un operatore alternativo. Omnitel era il primo operatore alternativo a Telecom in Italia, per quanto concerne la telefonia mobile, e il mio abbonamento l'ho sottoscritto il 24 aprile 1998, che significa che io ho fatto l'abbonamento, con la bolletta, quando ancora c'erano le lire. Prima ho avuto la carta ricaricabile, dopo un anno l'abbonamento. La carta ricaricabile è stata un'invenzione geniale, purtuttavia con una serie di limitazioni che nel corso del tempo sono state rimosse, capendo che sarebbe stato il futuro del mercato. La serie di limitazioni era complicatissima, per esempio con Omnitel le prime carte ricaricabili non avevano la possibilità di inviare SMS, era l'unico servizio alternativo alla telefonia che c'era, e tutta un'altra serie di servizi erano stati preclusi nel corso del tempo. Diciamo che mi sono trovato relativamente bene con l'operatore Omnitel, poi divenuto Vodafone, soprattutto per quanto concerne il discorso della copertura, perché anche uscendo da Siracusa, anche andando fuori dalla città, la copertura era piuttosto sufficiente nei suoi inizi, e poi piano piano è andata molto migliorando, anche se il passaggio da ricaricabile ad abbonamento è avvenuto, soprattutto per i grossi problemi di copertura che ci sono stati nella prima storia dell'operatore. L'apoteosi è stata nell'estate del 1997 essere andati in vacanza, sapendo che c'era stato detto che non c'era copertura di Omnitel in Val di Fiemme, ma c'era un accordo con Telecomitale Mobile per avere il roaming mentre se era mammo in Val di Fiemme. Tutta l'estate siamo stati completamente isolati telefonicamente, perché l'accordo di roaming era disponibile solo per gli abbonati. E dato che mi ero stufato di sentire ogni volta che chiedevo «si può fare questa cosa?» no, solo gli abbonati, visto che alla fine della fiera comunque l'abbonamento con Omnitel aveva un costo indubbiamente inferiore a quello avuto con il tax, sono passato ad abbonamento e mantenendo comunque parsimonia nell'uso del telefono sono riuscito ad avere bollette non eccessive. Sulle lire eravamo intorno alle 70-80 mila lire ogni due mesi, quando siamo arrivati agli euro e mano a mano nel frattempo ci sono stati i cambi di tariffa, sono arrivato a stabilizzarmi fra i 45 e i 55 € ogni bimestre, quindi più o meno sulla stessa cifra. Il mio primo piano dati l'ho sottoscritto nel 2009, subito dopo essere stato in Abruzzo dopo il terremoto. Era una storia piuttosto complessa, perché all'epoca con il mio abbonamento erano pochissimi i piani dati disponibili all'epoca, quello che sottoscrissi per primo mi permetteva di avere 500 Mega al mese, successivamente intorno al 2011 uscì un piano dati che si chiamava Vodafone Mobile per smartphone, che mi metteva a disposizione 2Gb al mese al costo di 10€. E feci quel piano dati e fui uno degli ultimi a fare quel piano dati, perché tipo dopo due settimane che avevo fatto quel piano dati, il piano dati esisteva ancora, ma da 2Gb al mese era passato a 1Gb al mese. Vodafone, all'epoca, aveva tentato di far passare tutti noi vecchi clienti magicamente a ricevere 1Gb al mese con un avviso via SMS, ma l'autorità per la garanzia nelle comunicazioni , la Gcom, la prese piuttosto male questa storia, e dopo una minaccia di sanzione Vodafone ritornò sui suoi passi dicendo «ok, chi attiva l'opzione da oggi avrà 1Gb, tutti i vecchi clienti rimangono con 2Gb». Però, per vendetta, Vodafone lasciò il piano con 2Gb esclusivamente in 3G, ma man mano che si espandeva la rete in 4G, tutti noi che avevamo attivato il vecchio piano in 3G non potevamo passare al 4G, se io attivavo il 4G automaticamente la navigazione si bloccava. Da una parte questa è stata una cosa piuttosto noiosa, perché io ho ottenuto 2Gb in 3G praticamente fino al 2017, anche perché quando io provai a chiedere «ma se io volessi fare il piano in 4G?», all'epoca la possibilità, grazie se il mio abbonamento era quella di passare da 2Gb in 3G a 500Mb in 4G, e considerate che io consumavo poco più di 1Gb, 1Gb e 2, 1Gb e 3 ogni mese. E noi in 4G le diamo a 10€ ogni quattro settimane, tra le altre cose, solo 500Mb, altrimenti deve completamente cambiare abbonamento, c'è un piano adesso non mi ricordo come si chiamava avrei dovuto pagare 59€ al mese per avere un tot di minuti, un tot di sms e un pacchetto di 2Gb in 4G, era una cifra eccessiva, specie in considerazione del fatto che io spendevo 55€ ogni due mesi complessivamente, quindi rinunciai fino al 2017, quando a seguito dell'ennesima magagna, in cui dopo che mi avevano attivato una serie di servizi dicendo «A fronte di questi servizi, per un mese le diamo questo servizio gratuito, poi lo paga da 1,99€, se vuole lo può disdettare, due volte ho fatto la disdetta, la terza volta e dal prossimo mese lei paga 1,99€ in 4 settimane, se vuole può rinunciare al contratto e andare con un altro operatore». Il punto è che Vodafone è stato il primo ed è attualmente il più grande operatore di telefonia mobile e GSM in Italia, che parte dal presupposto «Non sei nostro cliente, vieni che ti coccoliamo fino in fondo, sei già nostro cliente, zitto e non rompele le scatole». Questa cosa non funziona, infatti io ho chiuso il mio piano di abbonamento dopo vent'anni, e dopo aver chiuso il mio piano di abbonamento Vodafone ha cominciato a rincorrermi proponendomi nuove offerte. Nel corso di vent'anni, ovviamente, ho avuto una lunghissima quantità di problemi e una lunghissima quantità di volte in cui sono stato in contatto con il call center. Molte volte ho trovato dei ragazzi gentilissimi al call center, addirittura per tutto un periodo agli abbonati a noi che pagavamo la bolletta era dedicato un operatore speciale, era l'operatore personale. Non mi ricordo se rispondesse sempre lo stesso operatore, perché ho chiamato alcune volte, diverse volte mi ha risposto lo stesso operatore, ma altre volte mi hanno risposto altri operatori. Però c'era l'operatore personale, che aveva tutta la mia scheda, che poteva risolvere molto velocemente i miei problemi, le cose che normalmente ai clienti venivano attivate entro le 24-48 ore, a me venivano attivate entro le 2-3 ore. Questo sì, però ho avuto anche situazioni al limite dell'assurdo. Una volta per una situazione molto grave chiesi all'operatore delle informazioni, l'operatore mi lasciò in attesa per più di 40 minuti. Una volta quando facevo numeri di telefono di altri clienti Omnitel, piano piano con pochi clienti, poi a crescere fino a quando diventò TUTTI i numeri di qualsiasi cliente Omnitel, anziché poter parlare con quella persona, ricevevo un messaggio di errore «Il numero chiamato non è accessibile». Sono stati gentili nel tentare di risolvermi il problema, anche se erano piuttosto stupiti, addirittura ricordo un operatore che mi disse «Ma noi non abbiamo un messaggio di errore che dice «Il numero chiamato non è accessibile».». Invece c'era questo messaggio di errore, alla fine fu sostituita la mia sim perché non si riusciva a venire a capo, del motivo per cui, anche facendo dei reset della sim e quindi cancellando la mia utenza per 24-48 ore, mi era impossibile chiamare tutti i numeri Omnitel, quando sono arrivato all'ultimo momento praticamente non potevo fare neanche il mio numero di cellulare, invece di darmi occupato mi diceva «Il numero chiamato non è accessibile». Sono passato da alti e bassi, e poi diciamo che alla fine il mercato si è aperto in maniera differente, quindi sono passato ad altro operatore. Adesso sono tornato sotto l'ara protettiva di Vodafone, perché sono sotto O, anche se sono tentato di passare presto di nuovo a un altro operatore, perché ci sono condizioni di mercato più interessanti, soprattutto per chi fa il passaggio dagli operatori virtuali come O o Iliad, e questa è una cosa da tenere a mente. Tra le altre cose, comunque, diciamo che alla fine della fiera è interessante questo discorso che comincia a esserci una seria concorrenza sul mercato, che può fare solo bene al mercato. Bene ragazzi, questa è stata la mia esperienza con Omnitel Pronto Italia, poi è divenuto Vodafone Omnitel, infine è divenuto Vodafone. Voi che cosa mi raccontate? Siete utenti di Vodafone, siete stati utenti di Vodafone, siete stati utenti di Omnitel Pronto Italia? State pensando al passaggio di Vodafone? State pensando al passaggio in Vodafone in rete fissa, per esempio? Io ho avuto molti clienti che hanno avuto o hanno attualmente Vodafone come rete fissa, c'è chi si è trovato bene, c'è chi non si è trovato bene. Diciamo che anche lì, di nuovo, si nota questo modo di essere molto gentili con chi sta diventando un nuovo cliente, e molto meno gentili con chi è già cliente da molto tempo, quindi è una cosa che trovo secondo me una tecnica di mercato sbagliata, ma è una mia opinione. Voi invece che cosa mi raccontate? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con hashtag dvvotr. Io sono Grizzly, anche per oggi questo è tutto, spero di essere riuscito a raccontarvi in maniera simpatica qual è stata la mia esperienza con l'operatore Vodafone, se ci sono riuscito vi invito a mettere pollici in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su Whatsapp o Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che sì, riesce ad arrivare questo buon profumo anche se state guardando il video con la connessione in 3G. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e ricevere piccole curiosità e dietro le quinte sui video che sto realizzando. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima! Grazie!